Federica Pellegrini ed il marito Matteo Giunta sono convolati a nozze nel 2022, dalla loro unione è arrivata Matilda prima figlia della coppia. Federica Pellegrini, chi è il marito Matteo Giunta? Stasera l'ex campionessa di nuoto sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle, al via con la nuova edizione stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30. La 36enne nel corso della sua carriera in Vasca, è stata anche protagonista nel mondo del gossip per via dei noti fidanzati, a partire dal collega Luca Marin al quale è stata legata dal 2008 al 2011, per poi intraprendere una relazione con un altro nuotatore, Filippo Magnini. La storia con il campione olimpico si concludeva dopo sei anni, al termine dei quali stava nascendo un feeling con il suo coach, Matteo Giunta. Nato a Pesaro nel 1982, ha iniziato sui campi da calcio la sua attività agonistica, per poi dedicarsi al nuoto ed in seguito all'attività di allenatore. Divenuto preparatore del cugino Filippo Magnini, tramite il quale conosce Federica Pellegrini. L, a campionessa di nuoto, sarà allenata da Giunta e poco tempo dopo scatterà la scintilla tra i due, sotto la guida del pesarese, conquista la medaglia d'oro ai mondiali di Budapest. Ospite del podcast di Diletta Leotta, aveva raccontato, lui era professionale, voleva tenere il distacco sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant'altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al 100%. Si vede che quando ha capito che era una cosa importante, ha cambiato idea. La relazione veniva ufficializzata nel 2021, anno nel quale arrivava la proposta di nozze celebrate a Venezia nel 2022 nella chiesa di San Zaccaria. Nel 2023, Federica ed il marito partecipano a Pechino Express, formando la coppia dei novelli sposi.